Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e l'allacciamento A1 di Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici invernali. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione a Pontassieve, i regionali potranno subire ritardi e variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!